Il diritto costituzionale Ma c'è anche passione civile, c'è analisi, c'è secondo me anche la speranza e al centro di questo loro testo c'è la Costituzione. Io vi ringrazio, l'acustica sarà un po' penalizzata, però la sua ragione viene chiamata che ci hanno eseguito più attentamente. Vi presentiamo intanto, anzi, vi presentate da soli e se lo vedete a voi. Sono Gianni Davide, Luca Franceschetti. Allora avete bisogno di quanti microfoni? Uno, due, voi passate questo? Ok, lì in regia... Andate passate due? E' un applauso. E' un applauso, grazie a tutti. Un applauso a tutti i ragazzi, soprattutto chiudono con molte, Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.